Siamo in compagnia di Anna Delprete, prima quota rosa dell'Italian Poker Team dall'esordio del 2012 di questa formula di squadra che arriva a Las Vegas per provare a portare in alto i colori azzurri. Anna? Ma io sono veramente orgogliosa, mai avrei pensato ad arrivare a Las Vegas con questo grandissimo team, veramente per me è una grossa soddisfazione e penso di far valere le mie qualità di giocatrice, il fatto di essere arrivata fino qui lo dimostra e speriamo un bene. Ma noi questo te lo auguriamo sicuramente, noi, io e l'altra parte di quota rosa facciamo ovviamente il tifo per te, tu ti sei tra l'altro difesa benissimo nella leaderboard del Player of the Year dove ti sei qualificata ben quarta, praticamente per te il pacchetto è stato quasi sempre certo? Non certissimo, siamo sempre state nelle prime posizioni, però fino all'ultimo giorno non c'era niente di certo. Come ti sembra giocare con questo parterre internazionale? Ma certamente per noi che siamo all'inizio di questo grande evento, giocare con al tavolo certi personaggi per noi c'è un po' di suggestione, però penso di difendermi abbastanza bene. Quindi strategia di gioco? Ma io sono, il mio gioco è molto aggressivo, continuerà ad esserlo e con un po' di fortuna a volte mi premia e a volte purtroppo va male, però il mio stile di gioco è quello. Grazie a tutti!